Tra slanci in avanti e frenate improvvise, il Parlamento si prepara ad esaminare a tre anni del suo assassino al Cairo l'ipotesi di una commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Già ad inizio aprile il presidente della Camera Roberto Fico aveva nuovamente ripreso l'Egitto che non ha nemmeno avviato un processo su quel che è successo nei giorni che precedettero il ritrovamento del corpo il 4 febbraio del 2016 ai bordi di una strada ad alto traffico della capitale egiziana. Ora la commissione esteri della Camera ha licenziato il testo base per l'istituzione della commissione d'inchiesta sui fatti, provvedimento che però non sblocca automaticamente l'iter visto che ora il testo votato da Movimento 5 Stelle, PD, Leo e anche dalla Lega dovrà passare all'esame del Parlamento e la Lega ha già annunciato la volontà di presentare degli emendamenti. In attesa quindi di nuove mosse da parte egiziana qui in Italia c'è già l'opportunità di consegnare ai familiari di Giulio Regeni e alla storia finalmente una pagina di verità sulla sorte del giovane Giulio Regeni dal momento che l'inchiesta della magistratura italiana che non si è mai interrotta soffre però delle continue resistenze ed epistaggi da parte egiziana e che per ora nonostante le relazioni diplomatiche tra il nostro Parlamento e l'Egitto siano interrotte da Al-Sisi non arrivano segnali di nuove aperture. Il testo licenziato sarebbe praticamente identico a quello sostenuto dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura a meno di nuove incomprensioni tra Penta, Stellati e Lega è plausibile quindi che il testo arrivi in aula a maggio per essere finalmente approvato. La verità su Giulio Regeni è quello che ha chiesto fin da oggi.